Buon poveriggio a tutti gli amici di Castellanza, siamo nella nuova sede del CAI Avanti uno che mi invita i cittadini a venire alla Castagnata Presidente, Presidente Dimmi qualche cosa, vai 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 Mi raccomando venite alla Castagnata CAI di Castellanza, gruppo sportivo Tappascioni, la Castellanzese, la pallavolo castellanzese vi aspettano Ok, ci vediamo in piazza, ciao